Guardare l'Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo. Con questo spirito viene lanciato l'invito a partecipare sabato 23 e domenica 24 marzo alle giornate FAI di primavera. 66 beni visitabili durante le giornate FAI di primavera in Campania, tra sedi istituzionali, luoghi di culto, palazzi, ville, castelli, aree archeologiche, parchi e giardini. Il programma delle iniziative che si terranno in Campania ed in modo particolare nel Salernitano è stato presentato stamani nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Azzurra della Prefettura di Salerno. La delegazione FAI di Salerno curerà le aperture in città e provincia che anche quest'anno avranno come tema i particolari e per titolo Particolarità del Patrimonio Salernitano, dal capoluogo alla Villa Metelliana con la badia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni e la costa d'Amalfi con Positano e da Trani. A Salerno sono tanti i siti che saranno fruibili partendo dalla possibilità di visitare ad esempio il Palazzo della Prefettura con l'appartamento del Presidente della Repubblica, il Salone di Rappresentanza ed il Sacrario. Quest'anno le giornate FAI che si terranno 23 e 24 marzo avranno a Salerno il tema dei particolari, cioè il pubblico verrà invitato a visitare luoghi che solitamente sono chiusi ma mostreremo i dettagli dei palazzi e dei monumenti che sveleremo. Io penso per esempio e ringrazio la Prefettura perché ci ospita oggi anche in conferenza stampa ma il Prefetto ci ha consentito di aprire le porte dell'appartamento del Presidente della Repubblica qui in Prefettura oltre che del Salone di Rappresentanza del Sacrario. Altri luoghi particolari sono il Comunichino della Chiesa di San Giorgio, la Cappella di Nona del Duomo con la Cappella del Tesoro di San Matteo, il Medagliere Pontificio presso il Museo Diocesano, ancora i Affreschi Misteriosi di Palazzo Fiore, la Cappella di San Lodovico presso l'Archivio di Stato, il Salone da Ballo presso il Palazzo da Vossa, la Cappella Gentilizia presso il Palazzo Pinto e ancora la passeggiata sulla cupola dell'Annunziata, gli Affreschi del Piano Nobile di Palazzo Pedace e la Sede Fai. Anche in provincia siamo presenti con l'apertura eccezionale della Biblioteca e dell'Archivio della Badia di Cava, soltanto sabato e su prenotazione, a Trani sempre sabato per la collegiata della Maddalena e il Santuario di Santa Maria del Bando e ci sarà anche una passeggiata del CAI ad Atrani e poi Dulcis in Fundo a Positano, la Villa Romana e ringrazio l'amministrazione di Positano perché consentirà domenica 24 al FAI di essere presente e chiedere un contributo in luogo del biglietto di ingresso che solitamente viene pagato dal pubblico. Questo perché? Perché le giornate FAI di primavera hanno lo scopo di raccogliere iscrizioni e fondi per la missione del FAI.